La legge di bilancio 2022 ha previsto un'importante agevolazione che permette ai cittadini più bisognosi di ricevere gratuitamente a domicilio un nuovo decoder TV del valore non superiore a 30 euro tramite i servizi offerti da poste italiane. Possono accedere al bonus i cittadini di età superiore a 70 anni che percepiscono una pensione non superiore a 20.000 euro annui e che sono titolari di abbonamento al Calonerai. Di avventi diritto possono farne richiesta a poste italiane tramite tre canali attraverso il numero 800-776-883, il sito Nuova TV Digitale o recandosi in uno dei quasi 13.000 uffici postali in tutta Italia. Basterà avere con sé il codice fiscale e negli uffici postali anche un documento di identità in corso di validità. Dopo aver concordato il giorno della consegna sarà a poste italiane attraverso la propria rete di portalettere a consegnare direttamente a casa il decoder fino ad esaurimento delle risorse disponibili. poste italiane fornirà gratuitamente anche l'assistenza tecnica telefonica utile per l'installazione del decoder tv sempre al numero 800-776-883. Questa iniziativa è parte della strategia di inclusione e di supporto alla digitalizzazione del paese adottata dal piano industriale del gruppo guidato dall'amministratore delegato Matteo Delfante. Grazie. Grazie.